E' un grido d'allarme di dolore vero quello lanciato dai residenti del quartiere di San Valentino ad Andrea. Da sempre, purtroppo, la zona andriese vive in uno stato di distaccamento dalla città stessa e gli interventi delle diverse amministrazioni non hanno mai risolto alla radice problemi e tensioni sociali. L'emergenza ora si chiama quotidianità. Da più di due anni, infatti, sono in atto i lavori del piano di recupero urbano del quartiere che il Comune ha presentato in Regione ormai sei anni fa. Appaltati i lavori del primo stralcio, si è partiti a giugno del 2011, con il secondo stralcio invece approvato in giunta a febbraio del 2012. Ma dopo una prima fase intensa di lavori, sembra esserci una surreale calma e quanto iniziato è fermo da circa un mese. Per quanto riguardava i lavori che giustamente stanno andando a rilenti, non tanto vanno bene, il degrado pure del quartiere perché non viene seguito. Tante promesse da anni, però non vengono eseguite, vengono eseguite giusto lì per lì, giusto quando ci sono un po' le votazioni, poi alla fine vengono lasciate e si lasciano desiderare. Nessuno che ci segue in questo quartiere, siamo un quartiere abbastanza grande, voglio dire, alla fine. Veniamo lasciati nel degrado che non abbiamo neanche la possibilità, dove i nostri figli possono avere un futuro e dove non possono neanche giocare, scendere giù, questi sono e quant'altro, voglio dire, uno ha bisogno di avere una sua esigenza, voglio dire, alla fine. La pazienza dei residenti tuttavia è posta a dura prova non tanto dai lavori che procedono a rilento, ma anche e soprattutto dalla saluta mancanza di gestione ordinaria del quartiere. A fine di luglio, è vero che ci sono la questione delle ferie, però secondo me non vengono eseguiti nel tempo giusto, come abbiamo visto i lavori dovevano essere consegnati il 2 febbraio 2012, siamo ad agosto quindi un bel po' di ritardo. E poi dal servizio igienico, come abbiamo detto, noi vediamo la sporcizia, la sera vediamo anche dei topi girare perché giustamente se non c'è igiene, non c'è niente, si crea questo. Non c'è neanche disinfettazione, diciamo che vengono a disinfettare comunque, manca anche il parco giochi per i bambini che comunque finito l'oratorio i bambini non sanno dove andare a giocare, quindi ce li abbiamo così per strada, senza che loro non hanno un punto d'appoggio per andare a giocare e comunque noi ce li abbiamo sotto controllo, ce li abbiamo così per strada, dobbiamo stare sui balconi a guardarli, non toccare lì, non toccare lì, c'è tanto degrado comunque, voglio dire, siamo stati proprio abbandonati e non so perché, e comunque voglio dire, si vede più al centro che loro comunque fanno dei lavori, c'è da dire anche questo, perché al centro loro fanno quello che devono fare, invece il quartiere San Valentino viene sempre abbandonato e non è neanche giusto, perché noi comunque abbiamo dei bambini che hanno un futuro, voglio dire, non è giusto che noi per farli divertire ci dobbiamo spostare sempre al centro, quindi vogliamo anche dei parchi giochi per i ragazzi come ci sono nel centro, piste ciclabili, anche qui le potrebbero fare, che possono andare con le bici, possono giocare, non è giusto che noi ci dobbiamo spostare sempre al centro, è questo, poi per quanto riguarda la spazzatura, che facciamo? Che paghiamo la tassa e non veniamo neanche serviti, la porcheria è tanta, quindi avete visto anche voi, bidoni pieni di spazzature, cartacei dappertutto, quindi se io pago una tassa io voglio essere servita a dovere, a questo punto non si pagano più le tasse, non ho capito, perché al centro comunque loro puliscono, invece qui no, quindi noi, il quartiere è grande, la popolazione, la gente che ci vive comunque ci tiene, non è più San Valentino di una volta, adesso San Valentino è rinata, ci sono tanti giovani, tanti famiglie per bene, con i bambini, quindi non è giusto che noi dobbiamo subire tutto questo e ci dobbiamo vedere abbandonati. Quale può essere, diciamo ovviamente, a conclusione un po' di questo sfogo giusto, quale può essere un po' la richiesta che si può fare? La richiesta deve essere che loro comunque devono finire i lavori portati avanti, che hanno iniziato dei lavori ma non li hanno conclusi, quindi i lavori devono essere ultimati e per bene e non a singhiozzo, che una volta vengono, lasciano, poi se ne vanno, cioè non è giusto. Poi ci deve essere più igiene, più controllo, nel senso come gli spazzini devono venire a pulire le strade come si deve, perché noi comunque paghiamo una tassa, mi dispiace, questo è il nostro, e poi attrezzature per i nostri bambini, per il futuro loro, questo chiediamo soltanto.